la zona cesarini è proprio dolorosa e purtroppo siamo sempre qui a parlare delle solite cose anche oggi la prestazione dei ragazzi è stata perfetta diciamo non hanno sbagliato niente tra l'altro abbiamo avuto anche diverse occasioni da rete sia nel primo tempo con la punizione di manuzzi un paio di volte con con go nel secondo tempo oltre al gol di rizzitelli la traversa di pierantozzi è un altro tiro che adesso mi sfugge il nome però anche oggi abbiamo creato 4 5 palle gol nonostante che avessimo davanti una squadra scorbutica chiusa dietro che t'aspettava e nonostante questo abbiamo lavorato molto bene coi quinti sulle fasce per andare a creare quella superiorità in ampiezza e così è stato le occasioni le abbiamo avute purtroppo non abbiamo concretizzato come spesso ci cade ci accade e poi alla fine la zona cesarini ormai è diventato un tabù purtroppo non voglio parlare degli arbitri però anche oggi è stata una direzione di gara carente purtroppo gli arbitri sono questi e bisogna che ci adeguiamo perché tanto non possiamo fare niente hanno sempre ragione loro quindi di conseguenza noi dobbiamo andare avanti per la nostra continuare a lavorare a testa bassa come stiamo facendo perché poi dopo sono convinto che i risultati arrivano perché la ruota gira sicuramente la domanda è sempre quella indipendentemente dalla prestazione che poteva essere una partita perfetta quella di oggi poi però in zona cesarini purtroppo parliamo sempre delle stesse cose e anche questa volta gli ultimi 5 minuti sono stati fatali per noi a sfavore e ci stiamo lavorando non smetteremo mai di lavorarci e dobbiamo ancora aumentare le forze in questi ultimi minuti perché stiamo perdendo veramente tanti punti e a pensare ai punti persi viene male. Sembrava la partita perfetta perché avete fatto una gara di grande lucidità di grande impegno avete sbagliato dei gol poi è arrivato questo formidabile tiro da 40 metri che ha sbloccato la partita e si sperava di portare a casa l'intera posta. Sì sinceramente veniamo da tante prestazioni positive molto positive abbiamo avuto una reazione importante e non era facile nella situazione in cui eravamo purtroppo però non siamo riusciti in queste ultime partite a portare a casa punti sempre agli ultimi minuti addirittura domenica allo scadere e la prestazione c'è stata anche oggi c'è stata anche oggi ci sarà sempre perché la voglia c'è i ragazzi danno tutto in settimana e io sono contento ovviamente per il mio gol però ovviamente speravo di portare a casa il bottino pieno. Se avessi avuto un po' di fortuna facevi un bel gol. Sì nel calcio così si provano ma quando non gira non c'è niente da fare. Comunque parte l'impegno oggi poteva essere la partita perfetta perché non avete sbagliato nulla agli ultimi minuti in zona Cesarini invece si annebbia qualcosa e si concede quello che non avete concesso in tutta la partita. Sì l'avevamo preparata bene l'avevamo preparata per vincere purtroppo nel calcio quando si commettono degli errori spesso si pagano e anche oggi è successo così. Il tuo avvento a Cattolico è stato positivo perché stai dando un'ottima mano alla squadra? Sì sono venuto qui per dare una mano alla squadra nella squadra precedente giocavo poco quindi ho scelto di venire qui un bel progetto, una squadra forte, un gruppo unito, speriamo di salvarci. Fantini, un gol arrivato in zona Cesarini che vi ha permesso di conquistare un buon punto perché il Cattolico aveva fatto una bella gara. Sì un punto direi fondamentale per come se ne ha messa la partita poi è stata una battaglia, 95 minuti battaglia per come se ne ha messa per il gol all'ultimo è stato un grande punto contro una buona squadra soprattutto un avversario diciamo diretta, una diretta concorrente per la salvezza quindi sono contento sia per me che per la squadra.